Ultimamente Notion ci sta viziando tantissimo con delle novità incredibili, oggi te ne mostro una che è altrettanto assurda. Spostiamoci quindi subito su Notion, andiamo dritti al punto perché proprio non sto nella pelle nel mostrarti questa novità incredibile. Andiamo su un qualsiasi database, nel mio caso prendo quello dell'ultimo video che è Input 2024, trovi il video qui sopra in cui ti spiego come gestire al meglio gli input grazie a Notion e il database è in formato tabella, questo è essenziale per vedere questa novità. Quindi clicchiamo sui tre puntini e spostiamoci in questa nuova opzione che è Customize Input 2024, quindi Customize nome del database e possiamo aggiungere queste, più di quattro, che sono il subitems, le dependencies, tasks, insomma le varie attività che svolge l'intelligenza artificiale come il sommario, la traduzione, le keywords e il riempimento automatico e poi possiamo collegarci, come vedi, in GitHub, Google Drive eccetera eccetera. Quello che a me proprio preme tantissimo mostrarti perché sono contentissimo che finalmente sia stato reso così facile perché prima per creare un subitem ci mettevi una vita è questo. Ci basta cliccare su .subitems, clicchiamo Add, Turn On, Subitems ed eccolo qui. Quindi finalmente abbiamo queste sottocategorie e ci basta cliccare per esempio per scrivere qualsiasi cosa, in questo caso sotto Feel Good Productivity che è il libro di Ali Abdal sulla produttività, libro tra l'altro consigliatissimo. Possiamo scriverci veramente qualsiasi cosa, mettiamo appunto qualsiasi cosa e la cosa bella è che sotto ne possiamo andare ad aggiungerci poi un altro subitem che riguarda magari qualsiasi cosa. Quindi per esempio se io qui ci vado a scrivere ciao e chiudo questo toggle qui, non mi chiude ovviamente il resto ma mi chiude questo e me lo posso riaprire. Posso quindi creare una scaletta infinita di subitem che è proprio un qualcosa che resa così facile proprio non pensavo potesse mai essere possibile. Finalmente invece abbiamo questa funzione eccezionale e per l'appunto la cosa ancora più importante è proprio questa che noi possiamo andarci a creare come in questo caso se come me siete creatori di contenuti, vediamo, te lo mostro subito, un vero e proprio piano di azione. Questo è il database che utilizzo per esempio per i video. Ho creato un toggle, diciamo questa è un po' la cosa meno carina, un toggle che non ha un nome, ha come titolo novembre 2024 perché aprendolo ho i vari video da realizzare entro fine novembre. Per esempio la stessa cosa per dicembre ho i vari video che devo andare a realizzare ed è bellissimo perché ti permette di avere un piano di azione super chiaro e veramente velocissimo da reperire. In più questo può essere utilizzato nel nostro caso che comunque vogliamo raggiungere obiettivi, scriverli bene eccetera proprio con gli obiettivi. Possiamo utilizzarlo per scrivere obiettivi veramente e tenerli sempre sotto traccia quindi veramente controllabili che non è una cosa da poco averli sempre sott'occhio, modificarli, scriverli tutti i giorni tra l'altro. Poi come sappiamo bene a livello di produttività fortifica tantissimo. Quindi questa è la novità incredibile di oggi. Fatemi sapere se volete vedere anche le altre tre novità importanti che ci sono, quelle che vi ho mostrato prima. Fatemi sapere se questi video vi piacciono, se li volete un pochino più lunghi perché vado molto veloce, mi sono reso conto su questi tutorial qui ma sono più news d'aggiornamento se invece vogliamo andare più nello specifico ditemelo che ci realizzo chiaramente dei video. Quindi fatemi sapere la vostra opinione qui sotto, vi ringrazio per il supporto e ci vediamo prestissimo con un nuovo contenuto. Grazie.